Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati a Calciotoro, bentornati in questo nuovo video di Calciomercato. Oggi tante novità in uscita, veramente pochissime in entrata, anzi, su Torreira la situazione è ancora ferma. Dopo uscirà un video di approfondimento al riguardo, perché voglio fare chiarezza e voglio dire la mia su questo Calciomercato, che in questo momento si è rallentato del tutto, proprio ci siamo fermati. E niente, io comincerei a parlare delle cessioni, perché abbiamo delle novità importanti sotto il punto di vista di O-Line, De Silvestri, anzi De Silvestri, vabbè, se ne è già andato, è già svincolato dal Toro e si unirà al Bologna con Sinisa Mijailovic, quindi O-Line, Bianco, Izzo e tanto altro ancora. E soprattutto, prima di incominciare a parlare delle cessioni e fare il recap di questo Calciomercato, vorrei dire la mia sull'infortunio di Voivoda, maledendo la sosta nazionale o comunque le gare in nazionale, veramente, totalmente inutili, Nations League competizione inutile che serve solamente a fare infortunare ulteriori giocatori. E niente, ogni volta che i nostri giocatori vengono chiamati in nazionale, io spero semplicemente che non si rompano, perché insomma, a volte addirittura si rompono in amichevoli contro il San Marino che non contano nulla, e francamente ti verrebbe voglia di chiamare qualche santono e farlo venire giù in terra. Detto ciò, nulla di grave, speriamo che Voivoda si riprenda presto e che possa essere disponibile per la prima di campionato, anche perché è il nostro titolare sulla fascia destra, vorrei ricordarlo. In ogni caso, direi di partire subito con questo video di recap di Calciomercato. Dunque, O-Line è sul punto di partenza 2,5 milioni, è un prestito oneroso con diritto di riscatto che a determinate condizioni potrebbe diventare addirittura obbligo. Prestito denoso 2,5 milioni, poi il diritto fissato a 12,5, più il 10% sulla futura rivendita, sia a casa al Fulham, in Inghilterra, fa ritorno in patria, e meno male, mi verrebbe da dire. Sotto certo punto di vista mi dispiace anche per O-Line, che francamente è un giocatore che io ho sempre ritenuto possa avere qualità importanti. Ecco, quando è stato riscattato, io al riguardo ero molto scettico, più che scettico ero, vediamo, vediamo come farà, può essere un giocatore di qualità, può migliorarsi rispetto alla scorsa stagione, così non è stato, anzi, tutt'altro, sia nei preliminari di Europa League, dove la sua conoscenza, tra l'altro, insomma, della squadra avversaria non ha aiutato più di tanto, anche se è stato un errore per me non far giocare lui al posto di Ansaldi, ad esempio, è in campionato, insomma, sappiamo benissimo, conosciamo ormai a memoria le sue giocate, i suoi dribbling, i suoi doppi passi inutili, e soprattutto conosciamo l'Aino sulla fascia sinistra, secondo me è un terzino destro o esterno destro, può giocare solo là, ma niente, invece no, invece no, è stato adottato spesso a causa delle infortuni di Ansaldi, che tra parentesi si è rotto, no comment, e niente, adesso è sul punto di partenza, io direi che è un ottimo lavoro di bagnati, un'ottima operazione, certo si parla di un diritto di riscatto, ma da quel che si legge su determinati siti, mentre altri non riportano tale notizia, a raggiungimento di determinate presenze potrebbe diventare obbligo, anzi, a raggiungimento della salvezza, come dicono alcuni, in ogni caso è una bella cifra, sarebbe una mini plus valenza, quindi perché no, una plus valenza a tutti gli effetti, ottimo lavoro di bagnati, quindi ci si muove finalmente sotto il punto di vista delle cessioni, tra poco arriverà in Inghilterra, a Londra, a sostenere visite mediche e firma, detto ciò, parliamo degli altri giocatori sul punto di partenza, Lianco, per Lianco non è stato ancora trovato un accordo con nessun club, ci sono diverse squadre alla finestra, il Lille, il Bologna, il Napoli, la Roma, diverse squadre molto 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 interessate al gioiello brasiliano, lui ovviamente prediligio la destinazione Bologna, anche per riaccasarsi con il suo allenatore Sinisami Ailovic, non mi sono arrivate novità, né le ho sentite da chi, insomma, si occupa di calciomercato, di mestiere, come Torino Granata Official, fonte affidabilissima, ovviamente, comunque non ho sentito novità, sempre si parla di interessamenti, ma la cifra richiesta da Cairo dai 12 ai 15 milioni, pur secondo me essendo giusta, è un po' troppo troppo alta. Detto ciò, l'altro giocatore che è sul punto di partenza è Armando Izzo, Armando Izzo, sappiamo benissimo qual è la situazione di Armando, non gioca neanche più difensore centrale, né amichevoli, anche quando c'erano tutti i giocatori, è stato spesso schierato come terzino destro, quando i giocatori vengono schierati fuori ruolo, in amichevoli di questo tipo, sicuramente non è per testare una nuova posizione, tanto meno per Izzo, figuriamoci, ma è perché sono sul piede di partenza, partendo dal presupposto che Izzo è un difensore da difesa a 3, di conseguenza vorrei vedere come si adatterebbe alla difesa a 4, 4-3-1-2 di Marco Giampaolo, la sua partenza, insomma, è accettabile, è un giocatore su cui monetizzare, intorno ai 20 milioni, anche qua, Napoli, Roma, diverse squadre su di lui, anche dall'estero, qualche sondaggio, nulla, nulla, nulla di che, si parlava anche di Lazio tra l'altro, ma è una cifra veramente molto importante, che non tutti i club sono disposti a spendere, e qua, secondo me ragazzi, insomma, io spero possa essere ceduto, spero vivamente possa essere ceduto, perché è un giocatore dal quale abbiamo bisogno di ottenere soldi, anche per puntare ad obiettivi più interessanti, a proposito del resto di ghiaccio mercato, dei colpi in entrata, i colpi in entrata non si attracciano, non si sente nulla, non si ha alcun tipo di notizia, manca play, è trequartista, e ancora sappiamo meno di zero, ma per questo uscirà un video apposito, dopo pomeriggio più tardi, quindi rimanete sintonizzati qua sul canale, penso che in serata lo farò uscire, dove vi dirò un po' la mia su questo calciomercato, fino a questo punto, cosa manca ancora, è perché la trattativa Torreira sta diventando veramente estenuante, zero novità sull'Uruguagio ragazzi, quindi non chiedetemele, e niente, ci vediamo nel prossimo video, sempre forza Toro, ma prima di salutarvi, vi ricordo di seguirmi su Instagram, che io c'ho la calciotora, iscrivervi al canale, mettere un mi piace, attivare la campanellina, condividere il video con chi volete, con i vostri amici di Granata, facciamo crescere la community Granata, sul Toro, e niente, un saluto da parte mia, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!